Ciao a tutti, oggi siamo qui con Fitbit Surge, all'indomani di un importante aggiornamento che ne ha migliorato le potenzialità e che è andato a correggere alcune criticità che avevamo visto in questi mesi di utilizzo. L'abbiamo utilizzato per qualche mese, stiamo parlando di quello che Fitbit definisce il suo fitness super watch, infatti è la naturale evoluzione dei fitness tracker di Fitbit, degli activity tracker del fitness band e utilizza un display di dimensioni abbastanza generose per il settore degli activity tracker e quindi permette di avere diverse informazioni rispetto a quelle che ci dava ad esempio Charge HR che aveva un piccolo display LCD. Abbiamo l'orario, la data e poi tutti i dati della nostra giornata, i passi, il battito cardiaco, poi vediamo appunto una delle cose interessanti, la distanza percorsa, le calorie, i piani saliti e tutti i dati che poi ritroviamo comunque anche nell'app. Dicevamo all'indomani di un importante aggiornamento che ha portato delle nuove funzionalità nell'ambito sportivo perché questo è un dispositivo che Fitbit indirizza agli amanti del fitness e anche al pubblico ad esempio amante della corsa, infatti va a posizionarsi sopra gli activity tracker sconfinando nel campo degli sport watch con GPS, infatti una delle caratteristiche è quella di avere un GPS integrato. Quindi con Surge possiamo andare a monitorare le nostre attività all'aperto avendo la completa traccia GPS e avendo sul display dell'orologio il nostro passo istantaneo, il passo medio, la durata dell'allenamento e la distanza percorsa senza doverci appoggiare allo smartphone come invece fa un dispositivo come Charge. Trattandosi di un activity tracker naturalmente accelerometri integrati che tengono traccia dei passi che facciamo durante il giorno ma anche della nostra attività notturna dandoci nell'app una panoramica di come abbiamo dormito. Tra le caratteristiche dicevamo c'è quella di avere, l'abbiamo mostrato anche prima, un sensore di battito cardiaco all'interno sotto la cassa a diretto contatto con la pelle e già che ci siamo facciamo vedere il sistema di aggancio e di connessione al cavo USB che ci permette di collegare Surge al PC per la ricarica della batteria interna. Una batteria interna che inizialmente era data per 5 giorni di autonomia e circa 5 ore in modalità GPS, l'aggiornamento appena arrivato dovrebbe aver migliorato di molto l'autonomia del GPS arrivando fino a 10 ore. È un orologio che ci permette di tenere traccia non solo dell'attività di corsa ma anche ad esempio dell'oscursionismo, delle nostre camminate e anche della bicicletta. Ci sono diverse modalità di esercizio che possiamo scegliere e poi ci troveremo nella nostra app memorizzata l'attività già con la categoria giusta. Sono diverse le attività che possono essere scelte, sull'orologio ne possiamo avere fino a 7 ma dall'app possiamo scegliere da un'ampia lista quali appunto mettere preimpostate. Sull'orologio c'è anche il golf, lo spinning, i pilates, yoga, sollevamento pesi. Nelle attività all'esterno appunto usiamo il GPS, in quelle all'interno usiamo ad esempio gli accelerometri per la corsa sul tapirulant per vedere appunto la distanza che abbiamo percorso, averla anche sull'orologio. Invece in molti altri casi nell'indoor utilizziamo soprattutto la parte di rilevazione del battito cardiaco per avere un'idea di come ci siamo comportati durante gli esercizi. Come dicevamo l'aggiornamento software che è arrivato sul Surge nei giorni scorsi ha portato delle novità interessanti. La prima è la possibilità di attivare i giri automatici durante la corsa. Infatti prima avevamo due modalità di corsa, la corsa libera e la corsa con giri manuali dove dovevamo stoppare praticamente giro per giro noi quando volevamo memorizzare un giro. Ora come avviene su tantissimi sport watch c'è la possibilità di impostare dei giri automatici. Ad esempio l'uso più classico che se ne fa è quello di mettere un giro ogni chilometro e di avere quindi chilometro per chilometro tracciata l'andatura, il passo con la possibilità appunto di fare apparire i dati di andatura, distanza percorsa e passo anche sull'orologio. Cosa che prima appunto non potevamo vedere chilometro per chilometro come stavamo andando ma avevamo solo la possibilità di vedere il passo istantaneo che sappiamo tutti è un'indicazione non sempre precisissima, l'andatura media e non c'era nessuna misura in mezzo che ci dava un'idea di come stavamo andando in quel momento in modo un po' più mediato e pesato. Restando sempre alle novità, l'aggiornamento ha aggiunto la possibilità di avere un timer di countdown e il cronometro. Della batteria ne abbiamo già parlato. Passiamo quindi ad analizzare come si comporta nell'attività sportiva, in particolare nella corsa. È un orologio GPS quindi prima cosa come agganci i satelliti. Un po' più lentamente degli ultimissimi prodotti soprattutto quelli che hanno una pre-cache dei satelliti che quindi quando li andiamo a esporre ai satelliti sanno già circa quali segnali aspettarsi. Abbiamo un fix che quindi può arrivare a qualche decina di secondi se non verso il minuto. Diciamo che ha un fix pari a quello di un prodotto GPS di uno sport watch di un paio di anni fa, due o tre anni fa. L'abbiamo confrontato ad esempio con un Garmin 4Runner 405 e i tempi di fix sono circa uguali. Se lo confrontiamo con un Garmin 920 XT che ha la pre-cache dei satelliti, il Garmin di alta gamma trova i satelliti molto prima del surge. Una volta agganciati i satelliti il segnale viene agganciato in modo abbastanza stabile, sempre confrontandolo con altri prodotti GPS. Abbiamo visto qualche imprecisione in più e la tendenza a sottostimare leggermente la distanza, quello l'abbiamo fatto su dei percorsi noti di cui sappiamo esattamente la lunghezza e abbiamo visto che ogni tanto il surge dava delle distanze inferiori. Per il resto però dà un'indicazione abbastanza buona del tracciato, migliore esempio di quella che possiamo avere utilizzando un activity tracker collegato allo smartphone. Durante la corsa abbiamo detto che prima mancava assolutamente la possibilità di avere l'autogiro e quindi era una mancanza abbastanza critica, messa questa funzione ci sono alcune altre piccole criticità. Il display quando andiamo a fare un esercizio, una corsa a tre campi, in alto abbiamo la distanza ed è fissa, in mezzo abbiamo il tempo totale di percorrenza ed è fisso e solo il campo in basso è personalizzabile o comunque mobile. Scorrendo con il dito è possibile passare dalla velocità istantanea alla velocità media su tutto il percorso, al battito cardiaco, all'orologio, ai passi effettuati durante l'attività e alle calorie. Diciamo quindi che rispetto agli sport watch, come per esempio una delle proposte di Garmin in cui ci sono diverse schermate personalizzabili con i campi dati che l'utente vuole emettere, qui siamo un po' più limitati dal punto di vista delle informazioni che possiamo ricevere in tempo reale dal nostro orologio. Un orologio sportivo ma anche un orologio normale, un orologio normale che quindi ci accompagna durante tutto il giorno, che grazie al tipo di display mostra sempre l'orario, di notte possiamo anche far attivare la retroilluminazione per vederlo quando appunto c'è mancanza di luce o girando il polso oppure schiacciando uno dei pulsanti. Comunque in generale durante il giorno con una luce che sia quella che ci permette di leggere una qualsiasi pagina di carta, vediamo comunque sempre l'ora senza dover attivare la retroilluminazione. Tra le funzionalità da orologio normale abbiamo la sveglia, sveglia silenziosa a vibrazione, molto comoda se vogliamo alzarsi senza svegliare vicini di letto, compagni di letto o compagni di stanza. Le sveglie sono impostabili dall'app o dal pannello web, se ne possono impostare diverse, poi possono essere attivate e disattivate direttamente dal dispositivo. L'unica pecca è che non posso creare una nuova sveglia direttamente dal dispositivo, quindi per creare una nuova sveglia devo passare attraverso il telefonino o attraverso il pannello web e devo avere una connessione internet. Il telefono deve, per aggiornare le sveglie, deve praticamente connettersi al server e quindi se siete all'estero senza roaming e senza wifi non potete mettere una sveglia nuova. Per quanto riguarda la visualizzazione dei dati, l'app e il pannello web sono generalmente molto chiari, fanno vedere esattamente l'attività fatta, i passi fatti, anche andando nelle attività sportive è molto chiaro quello che si è fatto, sia la traccia, sia il tempo totale, la distanza, i giri che vengono in realtà, sebbene non ci fosse l'autogiro sull'orologio, nell'app trovavamo già tutti i giri chilometro per chilometro messi in modo automatico, l'unica pecca, altra pecca che possiamo trovare è che non c'è una perfetta continuità tra l'esperienza del pannello web, dell'orologio e dell'app. Alcune impostazioni più particolari le troviamo solo sul pannello web, molte delle altre le troviamo sull'app, mentre entrando nel pannello impostazioni dell'orologio ne troviamo una serie molto più limitata, quindi a volte quando dobbiamo andare a modificare un parametro, ad esempio attivare o disattivare i giri automatici o mettere la distanza della falcata per le attività indoor, ci troviamo un po' spaisati perché non le troviamo sull'orologio, le cerchiamo sull'app, non le troviamo sull'app, alla fine magari le troviamo solo sul pannello web. Come dicevamo una delle cose più interessanti di questo orologio è il sensore di battito cardiaco che lo rimostriamo, è qui nella parte posteriore della cassa, è un sensore ottico, come abbiamo già avuto modo di vedere su altri prodotti il sensore ottico ha pregi e difetti, il pregio è che ce l'abbiamo lì, non dobbiamo indossare nessuna fascia cardio durante l'attività e anche durante il giorno abbiamo un monitoraggio volendo 24 ore su 24 del battito cardiaco senza dover indossare null'altro. Una delle criticità è sicuramente la precisione di questo tipo di misurazione, da quello che abbiamo visto la reattività del rilevatore di battito cardiaco non è così veloce come quella di una fascia pettorale, una fascia cardiopettorale, quindi durante l'attività variazioni repentine del battito cardiaco non vengono registrate così bene sul surge come avverrebbe con un altro dispositivo con la fascia pettorale e anche l'andamento del battito cardiaco è molto più ballerino e frastagliato rispetto a quello di una fascia pettorale che è più lineare e continuo. Quindi da questo punto di vista è molto comodo avere la rilevazione del battito cardiaco al polso, ci dà in ogni momento una buona indicazione di quale zona cardiaca, in quale zona cardiaca ci stiamo muovendo ma sicuramente non è possibile utilizzare il sensore integrato in surge per avere un'indicazione precisa del battito cardiaco, sia mentre si stanno facendo gli allenamenti, quindi quando bisogna muoversi in modo rapido tra le diverse fasce cardiache, fasce di utilizzo del cuore e sia quando poi andiamo ad analizzare nell'app i dati, quindi non possiamo avere un'analisi puntuale del battito cardiaco, comunque l'andamento viene rispecchiato in modo abbastanza buono, abbastanza preciso. Quindi per un utilizzo amatoriale e fitness è sicuramente un parametro molto interessante che sarà ben gradito ad esempio a quelli che hanno uno sport watch e non hanno la fascia cardio, per chi è più addicted o vuole entrare più nello specifico dei suoi allenamenti, il rilevatore ottico forse non è ancora abbastanza. Discorso diverso per quanto riguarda la rilevazione del battito cardiaco a riposo, quello che l'orologio fa durante il giorno a intervalli regolari, pensavamo una feature non del tutto utile, invece abbiamo scoperto che un indicatore veramente ottimo e preciso del proprio stato di salute. Si vede proprio come nei momenti di stress, sia esso stress emotivo, stress fisico da viaggi trasferte o anche stress da malattia, un mal di gola, un'influenza, l'andamento del battito cardiaco a riposo sale e mentre invece quando arrivano i periodi di maggiore rilassamento l'andamento del battito cardiaco ha dei plateau verso il basso. Non pensavamo potesse essere così preciso e utile, invece in realtà è un dato che se impariamo a tenerlo d'occhio ci racconta di come un po' come sta andando la nostra vita. Se volessimo fare una battuta e dirla alla milanese imbruttito è un sensore di sbattito cardiaco. Siamo di fronte quindi a un orologio a tutto tondo che vuole fare anche un po' da smartwatch perché connesso in bluetooth al cellulare ci permette di avere le notifiche di email, sms e di controllare in modo, anche se un po' rudimentale, il player musicale. Ci permette infatti di mettere in pausa e di avanzare di traccia e di avere il nome della traccia che il player musicale sta riproducendo direttamente sull'orologio. Solo giusto queste sono le funzionalità smart per la connessione via bluetooth. Dicevamo uno smartwatch rudimentale, un orologio normale con sveglia silenziosa, ora sempre visibile, un design migliorabile perché non è che sia proprio il massimo dell'eleganza e uno sportwatch con GPS che ci permette appunto di tenere traccia in modo abbastanza preciso delle nostre attività anche se non a livello dei migliori sportwatch dedicati solo a questo. Dal punto di vista dell'attività hacker invece beneficia di tutta l'esperienza Fitbit nel campo e anche dei server online di Fitbit che analizzano i nostri dati e eliminano i falsi positivi. Da questo punto di vista Fitbit è una delle migliori piattaforme che abbiamo trovato al momento per la precisione di monitoraggio delle attività quotidiane e del sonno. È un dispositivo che viene proposto al prezzo di 250 euro per la precisione di 249,99, costa di più di una fitness band però appunto ha uno schermo più grande, ha sempre l'ora bella in vista e anche le funzionalità di uno sportwatch e quindi il prezzo di uno sportwatch è circa quello quindi per chi vuole un dispositivo tutto in uno e continuare a sfruttare magari la piattaforma Fitbit a cui è già iscritto sicuramente può essere un buon prodotto. Le alcune criticità ve le abbiamo già raccontate, alcune sono state risolte col nuovo aggiornamento per il resto vi rimandiamo anche allo scritto, alla recensione scritta che abbiamo pubblicato e che trovate qui da qualche parte sulle pagine di Hardware Upgrade.